Il 28 giugno 2020, alla vigilia dei santi patroni Pietro e Paolo di Agropoli, l'ente comunale è stato chiamato in causa dalla signora Lista Tiziana e il signor Alfonso Maria Pepe che reclamano la proprietà della piazzetta ubicata in prossimità della porta antica del centro storico di Agropoli. La notizia giunge da una delibera comunale pubblicata in questi giorni dall'ente. In data 8 marzo 2021, si legge nella delibera, è pervenuto a questo ente ricorso con il quale i signori Lista Tiziana e Alfonso Maria Pepe, rappresentati e divesi dall'avvocato Giuseppe Colopi con studio in Salerno, hanno convenuto in giudizio questo ente davanti al Tribunale di Vallo della Lucania per accertare e dichiarare l'acquisto per uso capione della proprietà condominiale dell'area terrazza indivisa in via piazza San Severino, nonché l'inesistenza di diritti domenicali o servitù di uso pubblico in favore del comune. Con il medesimo atto di citazione, il comune di Agropoli veniva chiamato a comparire per l'udienza del 28 giugno 2021 e invitato a costituirsi nei 20 giorni antecedenti l'udienza per formulare e produrre le proprie istanze difensive dinanzi al collegio designato ai sensi dell'articolo 168 bis del codice di procedura civile. Il comune di Agropoli, attraverso tale delibera, ha dato mandato all'avvocato Luigi Acerbo per la difesa, considerato che lo stesso avvocato ha manifestato a titolo gratuito disponibilità ed interesse per motivi etici e sociali. Già in passato la piazzetta in questione era stata oggetto di sopprusi e tentativi di appropriazione. In un reportage di Cilento Channel del 2018, il conduttore e il cittadino agropolese Eliseo degli Paoli denunciarono l'installazione abusiva di un cancello che impediva l'ingresso alla piazzetta e la presenza di una cassetta di derivazione elettrica privata su un albero. Entrambi gli abusi furono rimossi con l'intervento dei vigili urbani di Agropoli. Inoltre, all'inizio dell'anno in corso, il cittadino Eliseo degli Paoli aveva proposto al comune l'intitolazione della piazzetta che con il consenso dell'amministrazione agropolese sarebbe dovuto avvenire a febbraio, ma che a causa dell'emergenza Covid-19 slittò a marzo ed ulteriormente rinviata a data da destinarsi. Per la piazzetta sono state già realizzate le panchine tematiche e una prestigiosa targa. È il caso di intervenire con l'intitolazione prima del 28 giugno prossimo per onorare con un decoro urbano anche e soprattutto la festa dei Santi Patroni.